Wild Dog è un programma musicale, di musica indipendente, cioè di quegli artisti che in pratica sono compositori della loro musica. Sarà un programma itinerante, andremo per i locali, quei locali che hanno aderito al target, al programma, dove si esibiranno questi gruppi che sono stati selezionati da noi. Sono gruppi che comunque hanno, oltre che una storia, hanno un progetto in promozione, si può dire perché tutti hanno da promuovere o un video oppure un singolo piuttosto che un sì. Quindi sono artisti che per la maggiore hanno anche raggiunto degli ottimi risultati a livello nazionale. Abbiamo qualcuno addirittura che è stato a Sanremo Giovani, qualcuno ha vinto a Restowave, altri hanno vinto Rottergat Italia. Quindi è la creme della nostra regione perché abbiamo gruppi da Ascoli fino addirittura a Sporari in Romagna. Quindi il livello è altissimo. Le iscrizioni sono aperte ed è facilissimo iscriversi. Basta andare sulla pagina Facebook White Dog Riserva Musicale e condividere un video con delle informazioni. Poi saremo noi a valutare se la situazione di questo gruppo, di questo progetto, è inerente al nostro. E particolare sarà anche la puntata zero che andrà in onda domani su Rossini TV, raccontiamola. Allora, la puntata zero, innanzitutto abbiamo voluto fare un omaggio a Pesaro e soprattutto a quel gruppo, quel progetto che è stato l'alchimia predominante che ha fatto nascere tante cose a Pesaro a livello di musica indipendente. Diciamo che se esiste un circuito indipendente a Pesaro, quello l'hanno creato loro, i Camillas. Quindi abbiamo pensato di chiamare Ruben Camillas e Daniele Ridolfi, che comunque collabora con i Camillas, e farci raccontare gli esordi di questo progetto, ma non solo. Nella puntata avremo dei video inediti e quindi ci saranno veramente delle grandi sorprese per quello che riguarda questo storico duetto dei Camillas. Come tutti sanno è stato interrotto dalla perda di Mirko. L'appuntamento quindi d'ora in poi sarà per il martedì sera su Rossini TV con White Dog. Esatto, alle 21.15 tutti martedì gireremo per la nostra provincia nei locali che hanno aderito a questo programma.